Un saluto ai lettori di Montenero Notizie. Siamo in piazza Giovanni XXIII a Montenero di Bisacci, in compagnia di Gianluca Monturano, consigliere comunale di minoranza. Parleremo di diversi argomenti, fra questi l'autonomia differenziata, che è stata una mozione presentata alcuni giorni fa in consiglio comunale e poi anche della situazione attuale in amministrazione comunale, la maggioranza eccetera. Quindi partiamo subito con la prima domanda, che è proprio l'autonomia differenziata. Perché è così sbagliata questa cosa che vuole fare il Governo nazionale e che il Governo nostro regionale appoggia? Buonasera a tutti i lettori di Montenero Notizie, grazie Rossano per questo spazio. Guarda, ti rispondo subito e ti dico che, innanzitutto, non è una cosa che vogliono fare, è una cosa che già è stata fatta. È entrata in vigore da qualche settimana, anche se poi gli effetti di questa riforma vedranno la loro luce soltanto quando determinati criteri di assistenza sui LEP verranno rispettati in maniera generale. Quindi c'è anche la possibilità che questi questi LEP non vengano rispettati e la legge totalmente non entra in vigore, anche se su nove materie, su 24 è già possibile richiederla e anzi il Governo regionale del Veneto ha già chiesto l'autonomia su queste nove materie, che non sono materie secondarie, bensì sono materie primarie di vitale importanza per le economie dei territori. Noi ci opponiamo come una grande quantità di cittadini insieme a noi a questa legge che secondo noi distruggerà e separerà completamente anche quella che è l'unità territoriale italiana che faticosamente si è raggiunta in maniera neanche totalmente completa dal 1860 ad oggi perché appunto andrà a dividere ulteriormente i territori regionali andando a creare 20 stati differenti su materie di vitale essesi importanza. Si pensi addirittura che anche la gestione dei porti può essere differenziata, può essere appunto resa autonoma rispetto alle singole regioni che ne fanno richiesta. L'autonomia differenziata ha come obiettivo quello di rendere ogni territorio regionale differente e diseguale dagli altri. È proprio questo principio di diseguaglianza che noi rigettiamo e rimandiamo al mittente in quanto riteniamo invece che l'Italia debba essere unita e unica su scala regionale e su scala nazionale e non debbano esserci 20 sanità ancora più diversi di quelle le attuali, non debbano esserci 20 sistemi scolastici diversi, 20 materie di autonomia diverse, in particolare la ricerca scientifica dimostra per esempio che a livello di istruzione fino alle scuole medie con le prove invalsi eccetera non c'è una differenza molto marcata tra gli studenti e i ragazzi del nord Italia e quelli del sud. Dal nostro avviso è avviso di fior fior di esperti invece con questa autonomia differenziata per esempio in ambito scolastico si aggraverebbero le diseguaglianze educative in particolare anche dai livelli più di adolescenza appunto quindi pensiamo alle scuole elementari e le scuole medie. Ancora posso andare avanti con il fisco rendere un fisco totalmente differente tra le varie regioni a nostro avviso produrrà inefficienze dal punto di vista delle infrastrutture e degli investimenti che possono essere fatti su scala locale e questo aggrava anche quello che è una percezione invece generale dell'economia in senso più centrale lo vediamo a livello europeo con il piano nazionale di ripresa e resilienza che invece parte da una condivisione condivisione di debito e una condivisione di tori di stato tra nazioni in quel caso invece noi andiamo in una direzione opposta ovvero non unire e cercare di rendere più armonici i sistemi normativi bensì di dividerli e questo è il principio per cui noi ci opponiamo. Abbiamo come gruppo consigliare Montenero che rinasce avviato e avvieremo già da questa settimana la raccolta firme lo anticipo in questa in questa occasione venerdì ci sarà cercheremo di farlo sia venerdì che sabato poi vedrete le date sui nostri canali. Langeremo la raccolta firme cartacea perché a noi piace anche raccogliere le firme e stare a contatto con i cittadini oltre alla straordinaria partecipazione che sta riscuotendo invece la raccolta firme online che già a pomeriggio aveva raggiunto 285 mila firme quasi la metà di quelle più della metà di quelle necessarie per indire il referendum che con assoluta probabilità ci sarà e quello sarà il terreno di sfida per cercare di non sfasciare l'Italia di non aggravare i problemi che ha il sud Italia e anche la regione Molise il vicino Abruzzo la Puglia, la Campania e così via e di cercare di bloccare quella che come ha detto il grande economista meridionalista Gianfranco Viesti è un'autonomia dei ricchi dai poveri. Ha accennato la mozione presentata in consiglio comunale che avete firmato tutti e quattro quindi tutti e due i gruppi consigliari che come sappiamo vi siete divisi nel 2021 dopo appena un anno quindi con questa mozione firma tutte e quattro. Possiamo parlare di riconciliazione fra le due minoranze? Questa è la domanda delle domande come sempre. Cercherò di articolarla ma è già agli atti che noi non abbiamo una difficoltà, non abbiamo neanche mai avuto una difficoltà con i nostri colleghi di minoranza dal punto di vista delle idee, molte delle quali sono assolutamente compatibili, l'ha dimostrato anche il passato di unità di intenti in particolare tra me e consigliere Palombo, abbiamo delle idee assolutamente affini soprattutto in termini di come organizzare per esempio l'economia nazionale e anche quella locale e regionale. Abbiamo firmato la mozione perché la ritenevamo giusta e doverosa e l'abbiamo fatto anche su altre proposte ultimamente in particolare anche quella del 118 dove con alcuni distinguo che il consigliere Delisio ha già fatto pubblicamente anche io in consiglio comunale comunque riteniamo che ci sia la necessità appunto di proteggere un presidio di salvaguardia della salute come quello del 118 medicalizzato, soprattutto alla luce delle distanze e delle inefficienze del sistema sanitario regionale. Sull'autonomia è la stessa cosa, noi abbiamo letto la proposta della mozione, la proposta del consigliere Palombo e la ritenevamo giusta e aggiungo un'altra cosa, siccome non abbiamo avuto la possibilità di partecipare per motivi di lavoro sia io che il consigliere Delisio allo scorso consiglio, nonostante, e qui va detto, io avevo chiesto al presidente che ha anche detto in consiglio comunale di poter differire il consiglio in un'altra data ed ero disponibile quasi tutti i giorni di quella settimana, tranne quel giorno, mi è stato detto per motivi logistici non poteva essere possibile, per questa ragione noi faremo un altro, abbiamo già richiesto un altro consiglio con una mozione che vedrete nei prossimi giorni, aggiungeremo degli atti a questo consiglio, uno di questi sarà un ordine del giorno deliberativo dove chiederemo, e lo annuncio e spero che anche l'altra parte della minoranza condivida la proposta, chiederemo all'amministrazione comunale di fare due cose, una è impegnarsi attivamente nella raccolta delle firme contro l'autonomia differenziata per rindire il referendum e un altro è per impegnare a loro volta il presidente della regione Roberti a proporre come regione il referendum. Questo sarà un ordine del giorno deliberativo e noi lo facciamo come ordine del giorno perché vogliamo dare la possibilità a tutti i consiglieri in questo caso di potersi esprimere non l'ultimo argomento della politica rocare regionale, bensì il più importante che è appunto quello dell'autonomia differenziata che è la principale legge che è stata fatta in questi mesi probabilmente sarà la legge più importante di questa legislatura parlamentare. Quindi arriviamo nello specifico alla politica locale e passiamo a analizzare la maggioranza. Fra meno di due mesi saranno quattro anni di amministrazione comunale guidati dalla sindaca Simona Contucci. Questa maggioranza può ancora parlare al futuro quindi dire faremo, stiamo preparando eccetera eccetera o deve cominciare a parlare al presente o addirittura al passato? Questa è un'altra domanda delle domande. Molto dipenderà qui senza girarci intorno dalle future decisioni che si avranno a livello regionale sui famosi incarichi che verranno confermati o meno in particolare penso quello delle case popolari del Molise della provincia di Campobasso chiedo scusa in particolare sulla questione dell'ente liquidatore in questo caso e quello sarà un po' diciamo lo spartiacque tra che cosa può fare l'amministrazione comunale attuale e che cosa invece non può fare. Io penso che siano arrivati abbastanza, stanno arrivando scarichi all'appuntamento elettorale, sempre più scarichi. Lo dimostra il sentimento dei cittadini diciamo il Vox Populi, Vox Day che tutti possono sentire quotidianamente e in ultimo l'abbiamo sentito in questi giorni sulla questione dell'acqua. Rossano grazie per aver diciamo attenzionato i cittadini su questa questione che è di vitale importanza soprattutto per la crisi idrica che vive in particolare il mezzogiorno e basta uscire in piazza e vedere che i cittadini non parlano dei massimi sistemi, non parlano assolutamente dei massimi sistemi cosa che invece in alcuni contesti soprattutto quando le cose vanno meglio, i cittadini comuni si appassionano anche alla politica più distante, invece in questo contesto e in questo frangente noi vediamo proprio un attaccamento invece a quelli che sono dei diritti essenziali, in particolare l'acqua che serve pure all'agricoltura e non solo alla quotidianità dell'essere umano e quindi noi vediamo che i cittadini vogliono sempre di più un'attenzione maggiore verso queste che sono criticità reali che vivono tutti i giorni. Come arriveranno alle amministrative che non sappiamo se si terranno a scadenza naturale quindi nel settembre-ottobre del 2025 oppure verranno prolungate entro il giugno del 2026 presumibilmente ma io credo che appunto sia lo spartiacque sia queste nomine che verranno fatte che potrebbero far rientrare un dissenso crescente oppure accentuarlo e deflagrarlo totalmente quindi questo sarà un po' l'elemento se vogliamo essere ancora più precisi questo sarà anche un po' lo spartiacque del sindaco Conducci se sarà di nuovo lei il capolista della maggioranza oppure meno e questo ovviamente dipenderà questa attenzione sulle nomine anche dal numero di competitor che avrà l'amministrazione. L'ultima domanda sul PNRR, quindi sempre dopo quattro anni di amministrazione il PNRR, piano di ripresa e resilienza, il piano Marshall qualcuno l'ha chiamato quasi a livello dei soldi che arrivano dall'America immediato dopo guerra adesso invece sono arrivati dall'Europa, una valanga di miliardi di euro eccetera eccetera come dopo quattro anni come li ha sfruttati l'amministrazione Conducci? li ha usati, non li ha usati, per fesserie, per cose importanti, che cosa ci ha fatto? Allora grazie per la domanda, questo è davvero calzante e rispecchia un po' quello che sentiamo quotidianamente anche a livello nazionale. Io dico che il piano nazionale di ripresa e resilienza è un'opportunità, era, è e può essere nei prossimi due anni un'opportunità straordinaria e poi comunque avrà una piccola quota di risorse da spendere anche oltre il 2026 può essere appunto un'opportunità straordinaria per ridurre e mitigare le disuguaglianze territoriali se lo sta facendo o meno, qui diciamo i pareri sono discordanti a mio avviso stiamo perdendo un po' questa sfida in particolare in tema infrastrutturale io diciamo non avendo la contezza di amministrare Montenero tutti i giorni essendo solo un consigliere comunale avrei probabilmente dato più attenzione a delle opere infrastrutturali grandi che probabilmente in termini di consenso nel breve elettorale danno meno vigore all'amministrazione comunale però avrebbero fatto bene alla comunità tutta nel medio e lungo termine penso alla rete infrastrutturale stradale e le reti viarie anche inserendosi in un percorso turistico che poteva accompagnare questi due grandi interventi infrastrutturali sulle condutture idriche e sulle strade perché sappiamo che molto, soprattutto in estate del turismo che arriva e comunque che riusciamo a intercettare dipende e non solo in estate dipende appunto dalla nostra rete infrastrutturale e dalle risorse fisiche che si hanno e questo serve anche per i cittadini che quotidianamente vivono questa comunità e che invece risentono purtroppo di queste criticità se devo dire personalmente secondo me stiamo perdendo proprio come comunità un importante trampolino di lancio che è il piano azione di ripresa e residenza perché le risorse che sono arrivate che non sono neanche poche di 207 miliardi complessivi a livello nazionale per questa comunità non sono neanche poche però molti dei progetti che hanno ricevuto finanziamento non sono poi condizionati da un'attività amministrativa diretta bensì sono progetti che diciamo possono essere finanziati a prescindere in particolare io penso un'occasione l'ho detto altre volte che abbiamo perso è stata quella sull'asilo nido dove anche l'evidenza scientifica mostra che dove l'asilo nido c'è oppure si sta per creare ha una forte connotazione di ripresa nido lo fanno nel vecchio terminal diciamo io l'avrei avviato prima lo so che c'è il progetto penso per esempio stavo proprio per dire al tempo che c'è di differenza rispetto alla litera avviata appedacciato che appunto è partito prima e quindi questo è quello che diciamo un po' la critica che io muovo all'amministrazione poi alcune cose di buone sono state fatte io non ho non sempre tutto quello che viene fatto è da criticare anzi tutt'altro e quindi io dico che in generale stiamo perdendo un'occasione per rifare opere più grandi però dal punto di vista complessivo qualcosa sicuramente è stato fatto e soprattutto io penso che i cittadini abbiano bisogno di queste opere non abbiano bisogno invece di sentire dai Tg cosa succede invece a livello regionale questo permettimi di dirmelo in queste settimane anche perché l'amministrazione di diretta diciamo conseguenza dal punto di vista politico comunque è molto continua all'amministrazione regionale i cittadini preferiscono sentire parlare di strade di infrastrutture che funzionano meno rispetto al sottosegretario che è appunto un altro sottosegretario regionale che a mio avviso è uno scempio dal punto di vista politico soprattutto in questa fase annuncio anche qui un'altra attività che faremo nelle prossime settimane cioè prima del consiglio da convocare entro i termini di 20 giorni cioè prima del ferragosto noi chiederemo impegneremo il sindaco a fare due cose il primo ha diciamo con i canali informali e anche ufficiali a cercare di persuadere da questa attività ulteriore un aggravio di costi per i cittadini mi riferisco appunto al sottosegretario regionale in più chiederemo al sindaco nel caso in cui ci fosse anche qui un referendum perché lo statuto regionale una volta che viene modificato c'è bisogno si può chiedere entro tre mesi un terzo dei cittadini e se non sbaglio un quinto dei cittadini e un quinto dei consiglieri regionali il referendum per la modifica noi chiederemo visto che la legge è passata chiederemo al sindaco di impegnarsi anche rispetto a questo tema quindi questo era diciamo i cittadini vogliono sentire cose concrete non sono stufi di questi argomenti a mio avviso che non servono più soprattutto in questa fase grazie Gello Camontorano salutiamo i lettori di Montenero Notizi vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona una buone vacanze e una buona estate finale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti